Mi è stato chiesto di offrire un breve messaggio che aiuti a vivere la festa della Pasqua che nei prossimi giorni celebreremo. Lo faccio con piacere. Quando parliamo della Pasqua parliamo del cuore della vita cristiana, parliamo di Gesù che ingiustamente condannato a morte è risorto. La Pasqua è Gesù, il crocifisso risorto. Gesù che non è rimasto nel sepolcro, è risorto, è vivo e come vivente cammina davanti a noi ci chiama a seguire Lui, Lui che è il vivente e a trovare così in Lui la via della vita. La Pasqua è il dono che Gesù fa a tutti coloro che credono in Lui di non essere sopraffatti dal male e dalle difficoltà ma di vincere il male con il bene e le difficoltà, ogni tipo di difficoltà con l'amore. La Pasqua è il dono di Gesù di passare dalla tristezza alla gioia, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. In altre parole, la Pasqua è il dono che Gesù ci fa di poter essere felici sempre. Allora viene la domanda, in che modo Gesù ci dà la possibilità di essere felici sempre? Per trovare la risposta dobbiamo guardare alla vita di Gesù, in particolare agli ultimi momenti della sua vita terrena, all'ultima cena nella quale ricordiamo la lavanda dei piedi e il dono dell'eucaristia che celebreremo il giovedì santo e poi alla sua passione e morte sul Calvario che ricorderemo il venerdì santo. Vedete, Gesù, proprio perché è Dio e dunque onnipotente, avrebbe potuto scegliere la via dell'onnipotenza per salvarci e eliminare il male fisico e morale che c'è nel mondo con un semplice sovrano comando. Facendo così però, in questo modo, sarebbe rimasto al di fuori della nostra vicenda umana, non avrebbe veramente condiviso la nostra vita. Gesù, invece, ha scelto la via della partecipazione, si è fatto uno di noi, è entrato nella nostra storia e l'ha condivisa fino in fondo, nel positivo, come nello spaventoso carico di negativo che porta con sé. Per questa solidarietà con noi, Gesù è divenuto l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire. Gesù, in tutta la sua vita, ma specialmente nei giorni della sua passione e morte, ha fatto suo ogni dolore umano, personale o collettivo, piccolo o grande, conosciuto o sconosciuto. Davanti a Gesù crocifisso, nessuno può dire questo dolore è soltanto mio, perché quel dolore Gesù lo ha vissuto sulla croce, è già stato crocifisso con lui, egli lo ha fatto suo, ogni dolore appartiene a Gesù. Ma, e questa è la gioiosa notizia della Pasqua, ma colui che è stato crocifisso, il Padre lo ha risuscitato. La Pasqua di Gesù Cristo, ossia la sua vittoria sulla morte, ha conferito un valore divino e salvifico ad ogni dolore umano. Per questo il servo di Dio, il carissimo Papa Giovanni Paolo II, ci ha insegnato che nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta, ossia è entrata in una nuova dimensione, in una dimensione legata all'amore, è diventata anche la sofferenza un'occasione per far del bene, per vincere il male col bene. Proprio la sua risurrezione, la risurrezione di Gesù, manifesta per sempre la forza vittoriosa della sofferenza. Ricordo che c'è stato un momento nella mia vita, quando ero giovane, in cui ho avuto la grazia di comprendere più profondamente questo insegnamento di Gesù, che è come il cuore del Vangelo. Cercavo allora la via dalla liberazione dal dolore e mi chiedevo come guarire da questa malattia mortale che affligge ogni genere di persona. contemplando Gesù crocifisso e risorto, ho capito in una luce nuova che la guarigione vera, quella che è offerta da Gesù e che è accessibile a tutti, non consiste tanto nel fatto che il dolore ci viene tolto, ma nel fatto che ci è data la possibilità di trasformarlo in amore, accogliendolo e vivendolo come un dono. Allora, pieno di gioia, presi il mio diario e scrissi queste parole. Oggi ho compreso che in Gesù crocifisso e risorto posso essere felice sempre, non solo nonostante il dolore, ma grazie al dolore se lo rendo amore. «Questa scoperta ha acceso in me una luce che non si è più spenta». Ma è facile unire il dolore all'amore? No, non è facile, anzi supera le sole forze umane. Per questo, morendo Gesù, morendo sulla croce, Gesù ci ha donato lo spirito, il suo spirito che ogni cristiano riceve nel battesimo. Lo spirito non è altro che l'amore di Dio dato a noi, messo nei nostri cuori, sta dentro di noi l'amore di Dio. Grazie allo spirito, dono del Signore crocifisso e risorto, diventiamo capaci di amare come Dio ama, diventiamo capaci di accendere con l'amore che evita ogni situazione umana. La Pasqua di Gesù ci dà dunque la garanzia di poter avanzare sempre felici, lasciandoci alle spalle ogni timore, ogni scoraggiamento. infatti, come ha scritto Papa Benevetto XVI, questa è la nostra grande consolazione. Dio ci precede, ha già fatto tutto, ci ha dato pace e perdono e amore, ci ha dato e continua a darci nel sacramento della corestia se stesso il suo amore, nel sacramento della benitenza, della confessione, il suo perdono. Allora, carissimi fratelli e sorelle lituani, buona Pasqua, buona accoglienza dello Spirito del Signore crocifisso e risorto che ci dà la sua pace, il suo perdono, il suo amore, che ci dà la capacità di essere felici sempre. Che la Pasqua 2010 sia la più bella Pasqua della nostra vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!